perché io credo che quando si hanno i dolori a meno che sono dolori non so schiena che non ti puoi muovere devi continuare io sono questo il mio carattere beh dico alla gamba io lo devo fare anche se mi fa male devo continuare se ti fermi sei perduta e gli esercizi che mi piacciono a me mi piace tanto camminare perché è come se il mio corpo si rigenera di freschezza non sono magra ma me io mi muovo bene anche se sono così robusta mi fa sentire me stessa quella che io sono ballare per esempio il belly dance perché a me mi piace tanto muovermi e mi piace anche fare il rock n roll quei balli che io li facevo anche da giovane con mio fratello beh io le direi non pensare al dolore quello che fai fai muoviti pensa altre cose non pensare al dolore perché pensando al dolore peggiori la tua salute io mi mi mi